Io gioco a pallone, è quello che mi piace fare, è quello che mi sta riuscendo e poi dopo il gol, l'assist e la giocata sono tutte le conseguenze. Sono contento così, penso che bisogna essere contenti, bisogna avere entusiasmo, ma bisogna continuare a lavorare forte perché penso che lavorando forte ci possiamo divertire. È un lavoro mentale, è un lavoro fisico, adesso sicuramente la continuità anche in classifica dà uno stimolo in più, bisogna rimanere molto concentrati. Diciamo tutti e due perché l'abbiamo visto un po' anche noi in questi anni quando inconsciamente andando avanti in Europa ci mancava qualcosina in campionato, però penso che una grande squadra che come noi o comunque come noi che lavoriamo per essere una grande squadra non debba avere questi cali fisici e mentali, quindi lavoriamo per questo, lavoriamo per spingere sempre di più, per migliorarci sempre di più come individualità, come collettivo e cercando di arrivare alla fine sia in campionato che in Europa dove vogliamo arrivare. La sensazione è che la Roma abbia sempre in controllo la partita, che la gestisca, sappia colpire nel momento opportuno. Ci troveremmo incontro in Europa a una squadra simile, che gara ti aspetti anche a livello emotivo? Sarà una gara difficile a livello emotivo, ne abbiamo giocate tante in questi anni, quindi sappiamo quello che magari ci aspetta. Loro sono un'ottima squadra, una squadra a cui piace giocare, piace avere il pallone e anche noi, secondo me sarà veramente una bella sfida da vedere e da domani inizieremo a pensarci su, sarà una gara che si giocherà in due partite, quindi anche questo è un aspetto molto importante. E nulla, quello che ho detto prima, noi continuiamo a lavorare sempre di più perché c'è tanto da migliorarci individualmente e collettivamente perché penso che bisogna farlo per tutte le nostre ambizioni che sono altre. Grazie a tutti!